Gli investimenti nel comparto agricolo, in tempi di incertezza derivanti dalla siccità e dagli aumenti delle materie prime, sono concentrati in tutti quegli aspetti che permettono di migliorare l'efficienza delle aziende e ridurre gli sprechi. Il dato è emerso con chiarezza anche nel corso dell'ultima fiera di settore, quella di Robbio. E' quindi una buona notizia l'apertura di un bando di finanziamento del Gala Risorsa Lomellina che distribuisce contributi proprio a quelle imprese agricole che intendono investire per miglioramenti sul fronte della riduzione dei costi e dell'aumento del valore aggiunto, inteso sia come resa che come valorizzazione commerciale del prodotto. Il contributo è del 40%, ma per i giovani agricoltori può arrivare al 50%, calcolato su una spesa massima di un milione di euro. Le imprese agricole in modo particolare potranno beneficiare dei contributi tra il 40% e il 50% a fondo perduto per interventi a supporto della competitività, quindi tipicamente per le nostre imprese risicole, magazzini, silos e sicatoi, interventi sulla meccanizzazione legati alla lavorazione minima o agli spandi con cimi intelligenti e le guide satellitari. Non è trascurato anche la possibilità di trasformare il prodotto, di attivare dei punti vendita, non solo nel settore del riso, ma con la massima priorità di punteggio anche nel settore della cipolla di breme, asparago di cilavegna e dell'oca di mortare. Attualmente sono a disposizione 900 mila euro che a breve verranno aumentati di ulteriori 300-400 mila euro. Le domande vanno presentate entro il 28 ottobre. Parallelamente il Gal Risorsa Lomellina ha approntato anche un bando destinato ai comuni e alle associazioni senza scopo di lucro, che permette di finanziare investimenti per migliorare l'accoglienza turistica, con specifico riferimento al turismo ambientale e al turismo religioso. Comuni e anche associazioni, enti, fondazioni senza scopo di lucro possono beneficiare di un contributo del 90% a fondo perduto per interventi materiali e immateriali a supporto del turismo ambientale, gastronomico e religioso. Qui c'è un limite per intervento di 260 mila euro con un contributo di 200 mila e abbiamo un budget di circa mezzo milione, contiamo di finanziare 5-6 interventi attorno ai 100 mila euro l'uno di entità.